ciao benvenuti un nuovo video allora oggi vi voglio mostrare due ecommerce nuovi nuovi per me ma ci sono da un tanto marionno penso che si dica così marionno.it e notino perché ve li voglio mostrare intanto perché mi hanno contattato io non li conoscevo giuro non ho mai guardato anche perché marionno da me non c'è è tipo da glass sefora però da me non c'è quindi non l'ho mai guardato e notino io ho iniziato a sentirne parlare perché c'è la pubblicità adesso in televisione con la serie nuova non lo conoscevo neanche quello e ho scoperto perché me l'hanno detto una cosa molto 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 interessante se amate acquistare i padotti beauty e di cosmetica online in offerta a prezzi vantaggiosi hanno la spedizione gratuita su tutto wow allora niente allora il primo marchio che mi ha contattato devo dire che è stato notino perché sta contattando varie persone per farsi conoscere giustamente e poi perché oltre le pubblicità e in televisione è giusto che si farsi a conoscere allora notino tino.it spedizione gratuita su tutto sempre alla spedizione gratuita comprate 5 euro ed è spedizione gratuita la comprate 30 ciao sono l'alix al futuro lo so con improbabili luci assurde ma non volevo attaccare tutte quante e con una maglia improbabile stavo editando il video e mentre lo editavo ed è solo andate un attimo a guardare sul sito per voi volevo mettervi il link e ho notato una cosa notino la spedizione gratuita non la fa più ora è periodo di superiore ai 50 euro quindi mi sono fermata e ed è sono andata a chiedere come mai dato che mi siano presentati come qualcuno che faceva la spedizione gratuita come un e-commerce spedizione gratuita allora non ci stanno più dentro con i costi perché effettivamente c'erano tante persone che compravano e delle cose da 5 euro da 10 euro e loro hanno una spedizione con corriere velocissima che comunque sia tu fai l'ordine il lunedì il mercoledì arriva ed è ottimo imballo ottimo servizio non ci stavano con i prezzi e sì lo sapevo allora a questo punto vi segnalo invece continuate il video mario no ha sempre la spedizione gratuita come vi spiegherò e notino invece se c'è qualcosa che vi interessa oppure tenete d'occhio perché ogni tanto fa nelle promozioni la spedizione gratuita ecco in questo caso però a questo punto il video non è più quel senso di prima però ve lo faccio vedere lo stesso perché un sito che ha essens in italiano non è malvagio continuo a editare ho dovuto aprire il pacco semplicemente per togliere da qui i dati personali perché adesso non esageriamo ma comunque sia è ancora chiuso imballato e adesso guardiamo comunque più o meno ho idea di che cosa sia perché mi hanno detto ma adesso controlliamo per sicurezza mi hanno detto dato che comunque ed è io nel canale faccio vedere tanti prodotti low cost perché ci sono davvero tantissimi marchi andate a vedere perché wow altro che hanno prodotti low cost ma sai che noi abbiamo anche essens? wow davvero? avete essens? davvero davvero davvero? sono pazza? sì più o meno perché sinceramente io in italia non la trovo mai Douglas si è messa a tenere essens? sì però non ha mai niente disponibile mentre loro non hanno notino ha le edizioni classiche non ha le edizioni limitate quindi quelle limitate no ma quelle classiche permanenti sì e quindi guardiamo allora io direi di aprirlo a questo punto perché a questo punto sono curiosa anch'io e vedo subito così quindi ragazzi è imballato anche bene perché c'è questo pluriball così e questo pluriball così e adesso è vuota e quindi già il fatto che si è imballata bene questo che foglietto è? ah un foglietto con codice codice barra non so forse se ci sono dei problemi ma io spero vabbè allora parliamo da questo dunque eh lo sapevo long lasting e pencil nera della essence lo sapevo immaginavo che mi mandavano cose essence perché perché sì e mi hanno detto loro ma sai che abbiamo essence quindi immaginavo matita nera sapete che io le uso sempre e questa è anche buona e questo brown pomade più brush seppe della essence pomade meglio questo non lo conosco long lasting smooth proof waterproof quindi è un 4 dark brown speriamo bene adesso lo vediamo ma che cos'è? perché non l'ho mai visto? non c'è l'italiano quindi ci arrangiamo con l'inglese è una crema per le sopracciglia waterproof con pennello raga ma voi l'avete già mai visto? io no ah di qua ha il pennello angolato e quindi di qua che cos'è? la crema no non ci credo quindi ha la tinta per le sopracciglia molto dura molto dura ma si fa così? sì sì ecco è semplicemente du e du è molto dura a provare adesso non ci mettiamo qui a provarla però se funziona così e questa me la studio perché io non la conosco se voi la conoscete fatemelo sapere provate le sopracciglia io sono sempre alla ricerca e questa è una novità mi è andata una novità grazie poi voglio vedere qua perché è super imballato speriamo che non si rompa niente imballato imballato ho visto cosa no no dai no dai non l'ho mai trovata qua non l'ho mai trovata aspettate via questa roba cos'è? è la palette which side di essence che io non ho mai trovato qua neanche online online la trovavo su cosmetics for less ma è tedesco e ci voleva un sacco di spedizione allora è bellissima questa cosa solo questo è già bellissimo io però adesso incrocerò le dita che sia era imballata benissimo che sia integra specchio e questa è la palette però no guardate c'è anche il sigillo la plastica di sigillo che adesso togliamo ero curiosissima di provarla ma non l'ho mai trovata e ora eccola qua e che dire io sono già curiosa di provarla è inutile ad esempio questo i colori sono curiosa di provare ad esempio un colore che ha diventa super luminoso questa la devo mettere all'opera subito perché sono curiosissima di provarla e aspettate che la metto un po' più indietro insomma è che mi cada proprio adesso che è arrivata integra ecco via tutta questa plastica e adesso passiamo marionnaud.it è francese quindi credo in marionnaud è grande il pacco ma leggero stessa cosa ho dovuto smontarlo un attimo per togliere i dati personali e ho dovuto aprirlo e era super super sigillato ci rendiamo conto dai quattro lati con il codice ecco ho dovuto aprirlo perché mi e me l'avevano detto se facevo il video di stare attenta aspettate che cerco di aprirlo un pochino per voi anche per farvelo vedere perché ecco non è ancora chiuso però qui c'erano le stesse etichette con i dati quindi la stessa che era fuori era anche dentro ed è penso che fosse ne fanno in automatico per il reso non lo so e comunque quindi mi avevano detto di toglierlo e l'ho tolto ma per il resto mi sono fermata qui perché è arrivato oggi su via e anche loro mi hanno contattato ed è per via di stessa cosa ma sai che abbiamo Essence e io davvero interessante hanno Essence e Catrice hanno anche le cose delle edizioni limitate però in numero limitato quindi una volta che vanno sold out l'edizione limitata il trend edition come dicono di Essence quando vanno sold out basta e non le riprendono mentre l'edizione classica ce l'hanno sempre però me l'hanno detto perché glielo ho chiesto io sinceramente quindi non sono sicura di che cosa ci sia dentro ma lo scopriremo subito Mario no altra cosa importante di questo sito perché ve ne parlo perché ragazze ha la spedizione gratuita anche questo però attenzione ha la spedizione gratuita se fate la tessera a fedeltà io ho la tessera a fedeltà di tutto è facilissima da fare ed è me l'hanno spiegato ma comunque se sono andata sul sito e ho voluto provare per capire anch'io è facilissimo al momento della registrazione sulla registrazione classica in un sito classico e spunti la casella se hai già iscritto con la tessera a fedeltà se hai un negozio vicino nella mia regione non ci sono se vuoi iscriverti oppure se non vuoi iscriverti vuoi iscriverti perfetto quando ti arriva la mail per la conferma di registrazione c'è anche il codice della tessera che è valido codice proprio a barre e poi il numero della tessera quindi avete fatto la tessera la potete mettere anche sul telefono ad esempio se avete quelle app per le card stoccard o ci sono anche tantissime altre ed è la tessera classica e da lì spedizione gratuita su tutto il sito quindi semplicissimo sento dei rumori strani è ora di guardare e e secondo me il fatto della spedizione gratuita è è è una marcia in più sinceramente è una marcia in più avete notato che anche Douglas si è messa a fare la spedizione gratuita sugli utenti iscritti con la tessera stessa cosa anche Douglas ed è è un po' che Douglas non mi confatta però stessa cosa basta essere iscritti e per la tessera ed è l'espedizione gratuita e il sefora invece si è messa ad spedizione gratuita per gli ordini dei 39 euro prima era il 79 o 69 non mi ricordo non lo so non lo so perché ho sempre la spedizione gratuita io quella gold non lo so penso 69 e adesso è 39 quindi hanno abbassato notevolmente secondo me cosa molto furba ma torniamo a Mario no Mario no scusate ma io vedo una cosa scusate ma io vedo una cosa via tutto via 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 tutto via tutto via tutto via tutto ci sono anche delle altre cose dentro comunque ma è bellissima oddio è bellissima è bellissima è l'arena di Mario no è classica non suona non fa niente ma è morbidissima chi se ne frega se è passato a Natale è morbidissima con la M sulla zampetta alla targhetta di Mario no modello esclusivo sempre con il loro logo no ma è la colina no scusatemi ma guardate la colina cioè è rifinita benissimo in tutti i dettagli io già per questo sono contentissima Mario no vi amo vi amo già ma è è simpatica andiamo a vedere le altre cose però la rennina sta qui ok vi do tre cose tre cose e qui la scatola enorme è vuota mettiamola giù ah ah ok ok questi due e adesso li apriamo perché ho visto solo il marchio quindi vi dico che è Essence sono pennelli ah ma sono i pennelli di edizione limitata Disney oh bellissimi intanto io i pennelli di Essence li adoro perché sono di ottima qualità li lavo e li lavo e non perdo mai un assetto la costano non tanto 3 euro 3 euro 95 e poi questo è bellissimo questo è da sfumatura sicuramente non so se c'è scritto pennello sfumino sì e a Ariel si vede male c'era una collezione Disney e Catrice che hanno fatto assieme con i personaggi Disney che Essence aveva i personaggi buoni e Catrice quelli cattivi pennello da sfumatura è fantastico di Ariel e poi vediamo anche questo a questo punto sì stessa cosa questo è allora pennello da ombretto scusate fantastico e il personaggio il personaggio non vorrei dire una cavolata Snow White quindi Biancaneve sta facendo una cavolata allora perché io avrei letto La Bella e la Bestia quindi ah no 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 avete ragione cioè molto nel dettaglio però ha l'uccellino in mano quello cinguettante sapete che lei canta e quindi ci sta scusate li rimetto via solo un secondo perché se no rotolano poi scusate bella la confezione con i tappi bello bello se no mi rotolano per tutto il tavolo e poi questo Happy Happy My Corlash mascara quindi è un mascara ah è il mascara proprio del marchio mario no si chiama scusate non lo sapevo Happy My mascara curly lash quindi incurvante beh noi andiamo a vedere l'applicatore perché tanto sapete che io adoro mascara in mini sites perché non mi durano più di tanto e ne posso provare diversi quindi adesso tolgo l'etichetta e andiamo a vedere l'applicatore è fatto così è particolare ma scusate è nero ah no è blu infatti dicevo ma che colore particolare è blu un mascara blu che cosa strana particolare particolare un mascara blu infatti dicevo dalla luce blu beh sulla punta della ciglia ci sta ci sta è sempre un bel colore e basta ora direi che ora che io vado a pulire però direi che vi ho fatto scoprire ma fatemi sapere voi se li conoscevate già ci acquistavate oppure se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo io due marchi come Notino e Marion No e tanti prodotti da mettere alla prova ora devo assolutamente capire come funziona questo prodotto per sopracciglia di Essence del camera stavo guardando e mettere subito alla prova fatemi sapere da cosa volete che parto ma tanto sono po' tanti prodotti li metterò subito alla prova e io e la rinnina vi diamo appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrargo ogni mese ciao 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 Grazie a tutti.